Buongiorno a tutti, allora prima di concludere l'elesionamento di testi ai miei follower si fa per dire perché chi mi segue lo fa perché gli fa piacere farlo, ad altri invece vabbè dà fastidio le call news, a qualcuno interessano, a qualcuno no, io sinceramente di mettermi a fare, già faccio Don Gigi e Don Cherubino che mi sembrano due cose abbastanza simpatiche senza essere quella che fa il corsivo, adesso ho visto che c'è anche corsivo contro grassetto, ragazzi meritiamo l'estinzione, non ho parole, non ho guardato, mi sono rifiutato, ho solo visto corsivo contro grassetto, lasciamo perdere, sorvogliamo è meglio, Già una che mi dice ciao, si dice ciao, ma vada via il chat, comunque un mio caro amico, ci conosciamo da quando vengo, non da quando vengo al lago perché io sono sul lago di Como dove adesso sono, Domaso, non Gravedona ma tanto siamo vicini vicini no, oggi mi prendevano in giro al ristorante perché mi sono trasferito da Domaso a Gravedona e c'era una battuta sui gravedonesi vabbè, c'è questa storiella che magari vi racconterò che tra l'altro riprende il pifferaio di non mi ricordo quale città che solfeggiando solfeggiando portava fuori i topi che poi gli faceva finire nel mare vabbè, Lasciamo perdere, però ci conosciamo dagli anni, penso dagli anni 90 più o meno, siccome sa che sto seguendo il Como mi ha mandato questa notiziola molto molto simpatica e carina sulle proprietà più ricche del calcio italiano e signori miei i proprietari del Como, Gani Danè, tra l'altro i proprietari del Como hanno fatto arrivare il buon Fabregas, acquistone, io quando ho fatto notare, sì Fabregas libidine però c'è 35 anni, molti mi hanno detto Gigi in serie B un giocatore come Fabregas ti fa la differenza anche a 40 anni, io ho seri dubbi perché ragazzi miei la gente pensa che le serie minori ci sono i giocatori scarsi, sì ma nelle serie minori picchiano di più, nelle serie minori fai più fatica perché i giocatori menano di più, non c'è soprattutto dalla C in giù, non c'è il VAR, non ci sono le prove tv eccetera, quindi la gomitatina che l'arbitro non la vede, il piedino sul tuo piede per non farti saltare che l'arbitro difficilmente vede e il VAR non può vedere, il fallaccio furbo che prende la palla poi ti spezza una gamba, perché lì vogliono emergere tutti, soprattutto i giovani, viceversa quelli come si suol dire i vecchi bucanieri come si chiamavano una volta, conoscono tutti i trucchetti del mestiere, quindi più si scende di categoria più magari il livello sarà o non sarà super eccezionale, però qui è più dura, quindi non è così semplice dire no ma arriva Fabregas farà la differenza, no perché lì corrono, corrono e picchiano e le fighette non vanno mica bene, questo è quello che leggendo i vari libri del calcio di tanti tanti anni fa veniva fuori, comunque adesso sono altri tempi, io quei libri li leggero negli anni 70-80, barra 90, inizio 90 esagerando, adesso magari il calcio può essere anche diverso, chi lo sa, però, comunque stiamo sulla notiziola che mi ha girato il mio amico, ci tengo particolarmente, è stato carino a girarmela, mi fa visto che stai seguendo anche il Como, giustamente, perché mi hanno adottato, da Melaneson diventa, oggi mi ha fatto anche la battuta al mio capo sul lavoro, mi fa, perché stavamo parlando di un, stavamo parlando appunto, e dovevano scoprire di che posto erano determinate persone, ha visto che erano di provincia di Bergamo, fa, e meno male sono un bergamasco e non milanese, di fianco a me mi ha guardato, io l'ho guardato male, mi fa, Gigi ci sei rimasto male, e insomma, vabbè, sorvogliamo, poi gli faccio, ma ormai io mi sono imbastardito, sono diventato anche un po' la gay, ormai sono dieci anni, so che sono sul lago, quindi, in più calcolando che è appena sopra la metà degli anni 70, che vengo in vacanza un mese minimo su Adomaso, capite che, comunque, mi sono dilungato troppo, andiamo sulle proprietà, quali sono le proprietà più ricche del calcio italiano? A dare una risposta a questa domanda, come si legge su parmalive.com, o parmalive.com, ci ha provato la redazione di Forbes, 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 che ha silato la top ten dei club più facoltosi d'Italia. A guidarla non è una formazione di serie A, ma una di B, ovvero il como dei fratelli Robert e Michael Hartono, imprenditori indonesiani che hanno costruito un vero e proprio impero. I due vantano un patrimonio combinato pari a 45,5 miliardi di dollari, una somma circa sei volte superiore rispetto a quella del Monza di Silvio Berlusconi. Secondi in classifica. Seguono la Fiorentina di Commisso, 6,1 miliardi. Caro catto, digli a Commisso di cacciare il grano, che questo ce li ha, eh. Il Bologna di Saputo, e questo qualcuno gli fischierà nelle orecchie, la Roma dei Fretkin, 4,3 miliardi, Saputo, 4,8 miliardi. Solamente non alla Juventus, 2,1 miliardi, superata addirittura da un club DC, ossia dal Vicenza di Renzo Rosso, 3,5 miliardi. Completano la Top Ten, il Milan di Singer, sesto con 4,3 miliardi, il Sassuolo degli Squinzi, settimo con 3,9 miliardi, e l'Atalanta di Percassi, decima, con 1,4 miliardi. Noi siamo messi malissimo, l'Inter vive autofinanziandosi. I cinesini non contano una beata Giovanna, eppure siamo sempre competitivi. E qua, mi sa che, detto questa notizia, mi sa che una marea di interisti so già che cominceranno a ve ne andate o no, ve ne andate sì o no, che vogliamo qualcuno con i soldi. Tanto non cambia niente, non possono usarli. Non possono usarli. Le squadre si devono autofinanziare, come hanno spiegato con il Fireplay finanziario nuovo. Quindi i proprietari non possono mettere soldi per comprare i giocatori, a meno che non sei Al-Kelafi che fa quel cazzo che vuole finché il Mondiale non si sarà disputato. Una volta che si sarà disputato il Mondiale Al-Kelafi, alla UEFA, alla FIFA, non serve più a una beata Giovanna, vedrete che anche il Paris Saint-Germain comincerà a non fare più mercato per anni e cominceranno a rompergli i testi anche a lui. Detto questo, ragazzoli, spero che questa notizia, notiziuola sportiva, vi sia piaciuta, interessata, eccetera, eccetera. Questa curiosità con il como straricco e ci vediamo alla prossima. Ciao!